I rifiuti romani tornano terreno di scontro politico anche in Abruzzo nel pieno della campagna elettorale per le prossime elezioni di marzo. Il Movimento 5 Stelle parla di fake news sul tema smaltimento dei rifiuti capitolini in regione. Qualche consigliere regionali di maggioranza continuano i grillini, Starnazza accusando noi consiglieri regionali abruzzesi di accettare questi rifiuti solo perché provenienti da Roma, quando invece lo spostamento dipende da un accordo tra Regione Lazio e Regione Abruzzo, entrambi a guida del Partito Democratico. Forza Italia con Mauro Febbo chiede chiarezza rispetto alla quantità, qualità e tipologia del pattume e anche relativamente alla collocazione e lavorazione da effettuare. Accusi a 5 Stelle e Partito Democratico arrivano anche da noi con Salvini che attraverso il coordinatore regionale Giuseppe Belachioma afferma se l'Abruzzo non morirà sfiatato dai rincari autostradali lo farà per lo lezzo dell'immondizia diventando la discarica di Roma. A tutti risponde il sottosegretario alla Giunta regionale con delega all'ambiente ai rifiuti Mario Mazzocca che cerca di fare chiarezza sull'argomento. Diciamo questo ulteriore supporto della Regione Abruzzo lo smettisco categoricamente nel senso che c'è stata prima di latare una richiesta della Regione Lazio non del Comune, noi non abbiamo ricevuto almeno fino a ieri sera né io né il governatore non solo una nota, una lettera ma nemmeno una telefonata da parte del Comune di Roma. Dalla Regione Lazio invece ricevemmo una richiesta di eventuale ulteriore disponibilità per circa 100 tonnellate al giorno tal che gli uffici regionali esperirono una cosiddetta indagine di mercato per vedere se in Abruzzo c'erano impianti che potessero in qualche modo ospitare rifiuti per qualità e quantità da trattare. C'è stata una risposta positiva da parte di tre impianti, Cogesa, Laciam e la Deco di Chieti e adesso gli uffici stanno espritando l'istruttoria tecnica di merito. Non appena questa parte tecnica sarà definitivamente completata ci sarà una valutazione da parte degli organi competenti dal punto di vista amministrativo per poi rimettere la decisione finale all'esecutivo della giunta regionale quindi non stiamo sicuramente parlando né di ore né di giorni.